Si parte dalle periferie, si parte dal deporno, si parte dall'emergenza di raggiungere tanti temi fondamentali per il futuro dell'esistenza. E' importante perché mi fa molto piacere che uno dei primi momenti di questa nuova amministrazione, di questo mio mandato da sindaco, parte subito su un tema, quello della rigenerazione delle periferie e soprattutto anche con questa connessione con un'attività culturale, delle strizzarze, la possibilità di rendere belle e attrattive in maniera anche significativa le periferie, mi fa molto piacere. Per noi la rigenerazione urbana non è semplicemente addopare con una fontana o con un giardinetto alcuni quartieri, ma renderli vivi, renderli attrattivi, renderli belli perché la bellezza, come dice qualcuno, è contagiosa, e sprigione energie, riqualificare quel quartiere in cui tantissimi cittadini si sentono cittadini di sede B, valorizzarlo e farlo diventare magari con questi artisti, la street art, importante e conosciuto anche fuori brindisi, è fondamentale. Mi piace partire così, ringrazio l'assessore Bisicchio della Regione Puglia, l'assessore Capone, il Teatro Pubblico Pugliese, e con loro ci sarà da lavorare, ci sarà da mettere in piedi tanti progetti e sono assolutamente fiduciosi.